questo sono io cioè no questo in realtà il mio posteriore ecco qui questo adesso sono io io mi chiamo box in realtà il mio nome sarebbe box pound che sono nato sotto un palco la nostra famiglia è la ricerca da secoli dei famosi croccanti di arrigo gli arrigos voi sapete cos'è un arrigos vero come non lo sapete croccante caldo spezioso formaggioso sgranocchioso nel 1820 nacque arrigo tardini ovvero arrigo primo stanco dei soliti tortellini e tortelloni all'età di 16 anni cominciò nella cucina dei suoi genitori a creare gli arrigos penso di avere capito perfettamente dov'è o un piano d'azione e una mappa andiamoci a prendere questi arrigos da arrigo il negozio dove vengono fatti ora nascosti in un posto misterioso sotto nonantola e vi chiederete come mai è nascosto allora io vi racconto questa storiellina perché non mi seguite arrigo secondo rivoluzionò la ricetta di arrigo primo aggiungendo misteriosi ingredienti coltivati dalla partecipazione agraria e da allora gli arrigo sono diventati buonissimi molto 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 più croccanti negli anni 40 un gruppo di umani del nord vestiti di nero arrivò a nonantola e sembravano disperatamente alla ricerca della ricetta perché scaravoltarono nonantola e minacciarono tutti gli abitanti obbligando arrigo secondo a nascondersi sotto terra dopo la sua morte la ricetta passò al figlio arrigo terzo che la rese ma molto 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 più croccante ma cercare questo posto non è facile è una ricerca molto pericolosa bisogna attraversare la casa molto trafficata della signora patrizio scendere in piazza senza farsi vedere salire su per il pozzo saltare giù e non farmi beccare dai cani dai gatti molto importante assolutamente non mangiare il cibo del sindaco potrebbe anche essere l'ultimo se solo avessi una macchina come gli umani ma come sapete non hanno ancora fatto macchine sportive per i topi mi serve qualcosa di semplice una palla ok attraversare piazza della libertà facendo attenzione che non ci siano calciatori in giro sono vicino sempre più vicino sento l'odore degli arrigos di arrigo e pensare che mi dicevano che non ce l'avrei mai fatta ma il mio motto sapete qual è Vox prova di mostrare il contrario grazie a tutti grazie a tutti